Musica 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 Adesso il giro della vita, adesso qua Mirko deve veramente tirare fuori i partiti, cercare di sparare tutte le cartucce possibili immaginari, di non bagnare neanche una curva, girare strettissimo come sta facendo e dare gas, dare gas, perché adesso toccherà a Zee andare nell'ultimo giro a farsi il... Joker, c'è il margine, diciamo che il giro precedente aveva soltanto 3 decimi di spacco, adesso saranno almeno 3 secondi e mezzo, andiamo a vedere subito quant'è, 1 seconda e 5 potrebbe farcela, quasi quasi, vai 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 sfruttato alla crank, la tattica e la tecnica era quella, rimane rafficcicato tutto il tempo, il canto va ad allungare la frenata, benfino, bellissima prova questa, da parte di Pietro Zanni, davanti al leader assoluto di questa categoria, nelle Super 1600 nel campionato europeo, quindi questa è, dopo tre prove, una grandissima vittoria di Pietro Zanni, bravo, Copli, Betoni, veramente una prova strepitante dell'ungherese, ma lui, bellissimo, tanto quando ovviamente Zizi, e questa volta la tattica, Ciao, ciao!